Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ricominciamo la settimana con un 2 maggio che arriva ovviamente dopo la giornata della festa dei lavoratori e della festa del lavoro, una giornata molto importante per tutta Italia, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è una giornata soprattutto importante in un contesto complicato che è quello della crisi internazionale che si ripercuote anche sulla nostra economia e sulle nostre aziende. Ne parleremo perché sono comunque tematiche a cui la politica, il lavoro in particolare, a cui la politica deve dare risposta ed è una politica in divenire che si muove, che si evolve giorno dopo giorno e che soprattutto in questi ultimi giorni per quanto riguarda il fronte del centro-destra ha visto un'importante conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano in cui Meloni è stata molto chiara alla Presidente a dire siamo pronti per andare a guidare il governo. Ne parleremo con Francesco Torselli che è consigliere regionale di Fratelli d'Italia che saluto e ringrazio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E buonasera e benvenuto a Emiliano Fossi che è il sindaco di Campi Visenzio del Partito Democratico. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, ci sono diversi temi. Diciamo che questa platea, la platea di oggi, Fratelli d'Italia da una parte del Partito Democratico tra l'altra, è anche molto azzeccata stando a quelli che sono i sondaggi perché i sondaggi chiariscono oggi che sostanzialmente Fratelli d'Italia e Partito Democratico si contendono il primato nel gradimento degli elettori. Voglio partire su questo da Torselli perché questo poi in qualche modo dovrebbe, in un paese diciamo normale, in un paese democratico, anche dirci quali sono le prospettive rispetto alla possibilità di governare o meno un paese. Meloni è stata abbastanza chiara su questo, forse danno un messaggio più agli alleati del centro-destra che al centro-sinistra. Voi siete pronti a governare anche da soli. Questo è un messaggio rispetto a un contesto di legge elettorale, di architettura legislativa che negli ultimi anni ha garantito che i governi potessero resistere soltanto se sono di coalizione? Allora, bell'inizio. Intanto io credo che il testa a testa che appassiona oggi nei sondaggi, e spero domani sia anche il testa a testa dalle urne, perché una cosa è prendere voti nei sondaggi, una cosa è prendere poi nelle urne, dimostra quello che fortunatamente direi chi ha chi come me, per esempio, sogna un paese bipolare dove ci sono due poli contraddistinti, contrapposti, un polo progressista, un polo conservatore che si confrontano e poi gli elettori scelgono chi governare. Ci abbiamo provato in passato attraverso le coalizioni, attraverso i partiti unici, attraverso tante formule, poi alla fine nonostante tutto pare che comunque questo paese, gli elettori di questo paese vogliano poter scegliere tra un polo democratico progressista e un polo conservatore dall'altra parte. Quindi questo mi piace come inizio del confronto. Siamo pronti a governare da soli o no? È un qualcosa che ieri è stato chiarito. Ieri Giorgia Meloni a Milano, all'intervento conclusivo della convention, della conferenza programmatica, è stata chiara. Ha detto che noi siamo, Fratelli d'Italia è schierato qua dall'altra parte. Cioè il Partito Democratico e gli alleati del Partito Democratico, i nostri alleati, gli altri partiti di centrodestra, devono scegliere se star qua o qua. E non abbiamo dubbi che tra stare con Fratelli d'Italia e stare all'altra parte del campo stiano dalla nostra parte. Rispetto al passato, proprio perché questo paese ha uno strano rapporto con le leggi elettorali. Perché se è vero che gli elettori sanno scegliere bene e amano distinguere tra conservatori e progressisti, e lo dimostra il fatto che nei sondaggi di oggi appunto il testa a testa è tra il partito conservatore e il partito progressista, potremmo definirle così, PD e Fratelli d'Italia, il rapporto con le leggi elettorali è un po' più strano. Spesso e volentieri si fanno leggi elettorali che sembrano studiate a tavolino più per creare l'ingovernabilità che la governabilità. Io faccio sempre esempio dei comuni, laddove esiste una legge che è la legge perfetta, che è una legge chiarissima, dove chi vince fa il sindaco perché è eletto dal suo popolo, chi perde sta all'opposizione, è chiaro chi governa, è chiaro quali sono le forze che vanno a sostenere il sindaco, quelle che gli faranno opposizione per cinque anni. A un livello nazionale è sempre un po' più complicato. Si cerca spesso di fare leggi quasi per voler garantire che poi dopo se ne possa parlare in Parlamento e questo poi dopo spesso e volentieri genera situazioni poco chiare. Governi diciamo di larghe imprese, governi tecnici. Allora Fossi la convince lo schema diciamo di Torselli ma quello anche di Meloni, cioè la contrapposizione diciamo tra due grandi poli, perché un po' è vero come diceva Torselli, sicuramente è vero sull'efficienza della legge elettorale per i sindaci ad esempio, però è vero anche che negli ultimi anni c'è stato un fenomeno in Italia, il Movimento 5 Stelle, che ha scardinato un po' la logica dei due grandi poli. Oggi stanno i sondaggi ridimensionati, la sinistra vorebbe farci un'alleanza programmatica che però sembra un po' complicata, stando soprattutto alla linea di Conte negli ultimi tempi. Allora forse davvero lo schema conservatori progressisti potrebbe funzionare, forse gli elettori davvero chiederebbero una distinzione netta del genere. Ma io credo che in linea generale i cittadini chiedano quello. Credo che la classe politica dovrebbe fare un salto di qualità e provare davvero a fare un passaggio definitivo verso appunto la creazione di due poli contrapposti che si riconoscono in valori comuni, diciamo, che sono quelli della Costituzione repubblicana, ma poi al tempo stesso si dividono, come è giusto che sia, per la visione delle cose, per la visione del mondo e per la visione di paese che vuoi costruire. Credo che faticosamente si stia tornando in quella direzione, poi il tema della legge elettorale si affianca e chiaramente condiziona questo tipo di ragionamento, ma credo che si stia tornando a quella dinamica lì perché è vero che negli ultimi anni c'è stata una variabile non di poco conto rappresentata dal Movimento 5 Stelle che ha un po' scardinato, non solo lui, ma insomma, non solo il Movimento 5 Stelle, ma un po' le cose sono successe. Quello era stato l'abbrivio della Seconda Repubblica, cioè il superamento di un sistema dei partiti basato sul proporzionalismo e non solo e quindi l'idea di creare due poli che si misuravano. Il Movimento 5 Stelle ha rimescolato, ha contribuito a rimescolare le cose. Oggi, perché il Movimento 5 Stelle non si sapeva bene cosa fosse, se fosse più di destra, di sinistra, di centrosinistra, perché era, diciamo, post-ideologico come amavano definirsi, oggi mi pare che il Movimento 5 Stelle, con fatica ancora, stia affrontando un passaggio di ridefinizione, mi pare che prevalentemente si voglia collocare nel campo del centrosinistra, anche se appunto i passaggi non sono mai semplici e quindi di fatto i due poli ci sono già, ci sono, con difficoltà, con complicazioni nell'amalgamarli, e poi andrà scelta la legge elettorale che è più giusta anche per la fase che stiamo vivendo. Io penso che spesso e volentieri non abbiamo fatto le leggi elettorali nell'interesse della stabilità, nell'interesse quindi della politica e quindi in ultima istanza dei cittadini, spesso e volentieri le leggi elettorali, senza distinzione tra destra e sinistra, le si sono fatte perché si faceva un calco di qual era la legge elettorale più conveniente per la salvaguardia della classe dirigente, spesso e volentieri trovando punti di accordo. Quindi io spero che si possa fare un salto di qualità da questo punto di vista, perché poi alla fine il Paese ne avrebbe assolutamente bisogno. Sono d'accordo che io sono, come dire ormai, ho qualche anno di esperienza e anche per me la legge elettorale per le elezioni dei sindaci è la legge elettorale, non solo perché faccio il sindaco, ma perché è quella che ti garantisce un elemento di stabilità. Ma mi pare che oggi l'Italia sia lontana da quel tipo di epilogo purtroppo. Sì, un paio di cose ancora su questo, poi scenderemo anche su alcuni temi molto pratici, parleremo di PNRR anche rispetto alla nostra zona perché ci sono le novità importanti. Però dottor Salli volevo chiedere una cosa, perché Melone ha detto anche nei vari passaggi del suo ultimo intervento, insomma nei tre giorni, ha detto anche che non è che il Fratelli Italia andrà al governo a tutti i costi. Al governo ci si va, appunto la possibilità di andarci da solo è anche perché non c'è la volontà di svendersi, ha detto lei, parole testuali. Questo è un messaggio, mi pare, insomma anche agli alleati di centro-destra, visto che ci sono Lega, Forza Italia, insomma partiti nel centro-destra che in realtà hanno governato un po' all'inizio del Movimento 5 Stelle, ad esempio la Lega e oggi insomma tutti insieme nello stesso alveo di governo. Come dire, la domanda è semplice, quanto sono vicini, quanto sono fratelli o quanto sono cugini o quanti sono degli sconosciuti Lega e Forza Italia oggi per Fratelli d'Italia? No, non sono degli sconosciuti anche perché per fortuna a livello locale esistono tante esperienze in cui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia governano insieme, anzi ora che ci sono le amministrative alle porte e si ripresentano insieme, quindi se ci fosse stata questa rottura drastica e drammatica probabilmente si sarebbero presentati divisi o comunque con delle differenziazioni, quindi non sono degli sconosciuti. Cinque anni fa, quattro anni e mezzo fa, quattro anni fa, per l'elezione del 2018 Giorgio Meloni che rappresentava il partito più piccolo della coalizione all'epoca lanciò una provocazione, fece una manifestazione a Roma in cui invitò Salvini e Berlusconi, all'epoca i leader di Forza Italia e della Lega, per sottoscrivere insieme un patto di fedeltà, cioè che al governo andavamo se e solo se gli elettori italiani avessero dato il 40%, perché la legge elettorale prevede la soglia del 40% al centro-destra, altrimenti avrebbero governato gli altri, avremmo fatto l'opposizione, che è una figura dignitosa e fondamentale nel rapporto democratico. Fusce questa manifestazione e le due poltroni ai lati di Giorgio Meloni rimasero vuote. La storia ci ha detto che poi alla fine... Esatto, un po' abbattuta, ma stavolta, perché comunque stavolta siamo noi il primo partito della coalizione, quindi le regole del gioco le possiamo anche dettare noi stavolta, Giorgio ha detto abbattuta nell'intervento conclusivo, io mi sono ritrovata con due poltrone vuote ai lati, gli italiani si sono ritrovati con due governi non votati a nessuno però, con una cozzaglia di cose che non erano state scelte nella legge elettorale. Stavolta si chiederà, chiederà Giorgio Meloni, chiederemo noi con i Fratelli d'Italia, agli alleati, un centro-destra senza porte girevoli. Chi sta nel centro-destra governa se vince il centro-destra. Se i sondaggi oggi dicono che il centro-destra, sommando Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è ampiamente al di sopra di quel 40%, quindi non c'è la paura di non governare. Quindi se qualcuno pensa a un piano B, nonostante i sondaggi dicano che sei saldamente al di sopra della soglia di governabilità, significa che è un piano B ideologico, non è più un piano B di conservazione delle poltrone, che diceva prima Emiliano, che ha ragione perché spesso e volentieri si fanno le leggi in questo paese per garantire l'elezione a qualcuno, invece che per garantire l'interesse del popolo. Stavolta i sondaggi dicono che il centro-destra stravince. Quindi se qualcuno ha in mente già un piano B, nonostante tutti dicano che stai stravincendo, evidentemente è un piano B ideologico. Non vuole il bene del centro-destra. Evidentemente no. Senta forse, devo chiedere una cosa, rispetto anche a quanto diceva Torselli, ma è un ragionamento che vale per il centro-destra, ma vale anche per il centro-sinistra, perché oggi si sta al governo, insomma state al governo anche con Lega, con Forza Italia, con il Movimento 5 Stelle, come Partito Democratico, ovviamente con il faro che ci sono alcune cose che vengono fatto, la congiuntura storica, il momento e tutto ciò che riguarda questa fase. Il discorso è che questa fase finirà nel 2023 con le nuove elezioni automaticamente o è una fase che secondo lei, se dovesse continuare una situazione internazionale complicata, il PNRR che comunque dovrà essere ancora gestito e tutto il resto, è una fase riproducibile? E poi le chiedo anche questo. Visto che oggi tutto sommato al governo ci si sta tutti insieme, rimando forse alcune posizioni più ideologiche su alcuni temi che sono quelli più distintivi tra destra e sinistra, ma le cose da fare vi accomunano in qualche modo. La Lega e Forza Italia che oggi stanno al governo con voi non sono un po' distanti dal Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni a Milano che in questi giorni ha chiarito in maniera piuttosto equastica. Insomma, le Lega e Forza Italia non sono cambiate abbastanza da forse non essere più accomunabili nel Fratelli d'Italia di Meloni? Ma questo non lo so, so solo che come dicevo prima, per onestà intellettuale, le difficoltà ci sono in entrambi gli schieramenti nel definire delle coalizioni amalgamate nella maniera giusta. Quindi non entro mai nel campo avversario, però faccio una constatazione che riguarda in primis il mio e come dire, a una lettura semplice è chiaro che ci sono anche degli elementi da definire nel campo del centro-destra. Ma detto questo io penso questa cosa. Il Partito Democratico in questi anni, e io credo anche giustamente, si è caratterizzato molto per essere un po' il partito della responsabilità. Cioè quello che si è caricato sulle spalle la necessità di far fronte a periodi difficili, noi veniamo da due anni tremendi, quindi non solo questi due ultimi due anni che sono chiaramente stati drammatici e complicati, ma insomma un po' quando è stata chiamata la necessità di far fronte a fasi di difficoltà il Partito Democratico ha sempre risposto presente. E questo credo sia un elemento caratterizzante, anche distintivo, importante. Però io sono uno di quelli e all'interno del mio partito dice che noi non possiamo essere soltanto unicamente il Partito della responsabilità, noi dobbiamo essere il partito che evita che la responsabilità diventi un indistinto e che lo rende non più percepibile in quello che possono essere le sue caratteristiche. Noi stiamo chiaramente in un campo che è quello del centro-sinistra, della sinistra progressista, definiamolo come vogliamo, e che da questo punto di vista deve avere degli elementi su cui caratterizzarsi e quindi credo che debba prendere sempre più un proprio profilo più marcato, una propria specificità più distinta, che passa per tutta una serie di scelte, in tutta una serie di campi che ci devono caratterizzare in maniera più nettamente e talvolta in maniera più radicale. E questo quindi vuol dire che, da un punto di vista, per rispondere alla domanda, dei governi di coalizione o di unità nazionale o quasi unità nazionale, è chiaro che queste debbano essere delle situazioni che sono confinate a un certo periodo, a un certo lasso di tempo e credo che con la scadenza di questa legislatura del 2023 si debbano esaurire. Quindi vuol dire che noi dobbiamo essere capaci e percettibili come un partito che ha una sua proposta precisa e perché, per esempio, su alcuni punti, ne cito uno e chiudo velocissimamente, che riguarda una vicenda che ha riguardato anche il mio territorio. Quando abbiamo avuto da discutere sul tema delle localizzazioni e quindi di fare una legge più stringente su questo tema, io sono stato uno di quelli che ha sostenuto un'idea di fare una legge che certo non andasse a detrimento della possibilità degli investitori, degli investimenti da parte di investimenti stranieri dall'estero, ma ci voleva una legislazione, una normativa che fosse appunto più marcatamente capace di tutelare i territori e le comunità. E questo lo ha sostenuto anche il PD all'interno del governo. C'è stata una dinamica, una dialettica, perché era chiaro, per esempio, all'interno dello stesso Mise, la viceministro Todd aveva una posizione, che era quella che aveva il ministro Orlando e il ministro Giorgetti ne aveva un'altra. propria, ne è che è venuto fuori una mediazione che poco si percepisce e si capisce e perlomeno non è la mia. Quindi questo è un esempio dei tanti che potremmo fare che ci dicono che la fase delle grandi coalizioni, io spero, finisca e che si valla all'elezione del 2023 con due proposte alternative e chiare. Allora, un paio di domande rapide. Parto da Torselli. La prima riguarda, sempre nella chiave, ma veniamo anche sul nostro territorio. Alcune questioni concrete. Il PNRR, mi viene in mente questo, perché è una discussione di cui oggi ha parlato anche Nardella, stamattina ha presentato le opere per la città metropolitana, 2 miliardi e mezzo, se non sbaglio, di euro assegnati, con anche alcuni problemi che riguardano il reperimento delle materie prime e i prezzi, perché poi alla fine con l'inflazione che cresce giorno dopo giorno rischiano di aumentare dal momento in cui si fa una gara al momento in cui poi si arriva a fare i lavori. E questo è senz'altro problema. Da qui anche un appello del governo, se questo voglio sentire che fossi dopo. Però, cioè, come dire, rimane il fatto, il tema, che questi investimenti dovranno essere garantiti qualsiasi cosa succeda a livello politico, perché l'orizzonte temporale di certe cose deve essere più lungo di quanto può durare un governo, soprattutto in Italia che, insomma, cambia ogni anno e mezzo, no? Allora, io penso che il vero tema sia, l'ha detto te, rendere questo strumento uno strumento che è capace di modellarsi in funzione dei tempi che cambiano. Questo strumento è stato pensato durante un'epoca drammatica, quella della pandemia, ma che non teneva certo conto della seconda epoca drammatica e quella della guerra dopo la pandemia. E se oggi noi non lo ripensiamo, rischiamo che la metà del PNR venga bruciato dall'inflazione e quindi iniziamo già con uno strumento che vale il 50% di quello che doveva valere. E il secondo punto è quello di iniziare anche a ripensarne le destinazioni, perché noi abbiamo delle destinazioni nuove scaturite e anzi scaturite, messe in evidenza, perché lo sapevamo averle, penso una su tutto quello dell'indipendenza energetica, delle problematiche di approvvigionamento energetico del nostro Paese, che oggi non sono temperate nel PNRR, ma che invece dovrebbero essere attemperate nel PNRR. Mi fa molto più paura questo che non una discontinuità di governi, perché se tu fai delle opere, questo l'abbiamo detto un po' tutti però, se tu usi il PNRR per dare mancette, allora è ovvio che ogni governo vorrà dare la mancetta a chi vuole. Se tu operi e ragioni e utilizzi il PNRR per fare del bene al Paese, perché non ci dimentichiamo mai, che non è che è un regalo, è un qualcosa che noi oggi spendiamo, ma che qualcuno dopo di noi pagherà. Quindi se tu lo fai e ragioni in ottica di interesse nazionale, non credo che arrivi un governo che va a bloccare le opere iniziate, magari arrivate a metà e lasci i ponti o le superstrade ammezzate o gli ospedali fermi al primo piano. Quindi l'importante è fare opere strategiche, ripensarle tutte insieme, anche su questo. Ripensarle vuol dire anche fare un braccio di ferro con l'Europa, probabilmente su questo. Esatto, e anche su questo faccio uno spot a quella della mia parte politica, ma anche perché lei è quella che conosco meglio. Fratelli d'Italia, stando all'opposizione sul PNRR, sulle opere, sul braccio di ferro con l'Europa per ripensare anche il PNRR, ha teso la mano al governo. Cioè nonostante noi verso questo governo siamo stati super critici, laddove poi va a prevalere l'interesse nazionale non esiste maggioranza di opposizione, perché Giorgia Meloni sa bene che un domani si potrebbe, sperando, dicendo pronti per governare come il titolo della vostra trasmissione di oggi, sa bene che un domani potrebbe trovarsi a dover gestire il completamento delle opere iniziate da un altro governo. È chiaro. Rispetto anche a quanto diceva Torselli, sempre oggi il sindaco Nardella ha detto credo l'Italia sia l'ultimo paese che si può permettere di chiedere una proroga, perché è una discussione in campo, visto che è stata soprattutto la crisi tra Russia e Ucraina e quindi l'innalzamento dei prezzi, l'assenza di materie prime. Molti hanno ipotizzato che si potesse prorogare i tempi invece al 2026, almeno al 2028. Ha detto siamo l'ultimo paese se ce lo possiamo permettere, perché siamo stati il paese più favorito dal punto di vista della quantità delle risorse, cioè dei miliardi che arriveranno. È d'accordo? Io sono d'accordo che si debba cercare di rispettare i tempi, che si debba mettere le realtà istituzionali nelle condizioni di farlo e quindi questo vuol dire anche per esempio nel PNRR ci sono tanti progetti che finanziano interventi di comuni, di comuni minori, quindi non soltanto come il mio, ma il mio è un comune a 50 mila abitanti, quindi non è proprio un comunello più piccolo. Ha delle difficoltà sicuramente a far fronte a tutta una serie di progettualità, però parlo anche per comuni più piccoli del mio. Oggi eravamo con alcuni sindaci a presentare alcuni progetti finanziati sul PNRR in città metropolitana e condividevamo anche questo aspetto qui, quindi perché è chiaro c'è la città metropolitana, c'è la stazione appaltante, però poi alla fine molto del lavoro dovrà essere affrontato dai comuni e quindi dal personale dei comuni. Quindi su questo io ho una preoccupazione e questo poi, insieme alle cose che diceva Torselli, che condivido in buona parte, poi si riverbera anche come possibilità di allungamento dei tempi. Quindi capisco il ragionamento che fa Nardella, però al tempo stesso una preoccupazione c'è. Io faccio un esempio, noi abbiamo finanziato con il PNRR il secondo lotto della tramvia, cioè la linea 4, quella dalla Leopolda, Piagge, Campi Bisenzi, il primo lotto è finanziato lo sblocco Italia ormai da tempo, il secondo lotto è tutto PNRR, 222 milioni. Lì c'è la scadenza del 2026, chi ha vissuto direttamente le stagioni della tramvia sa benissimo quanto sono imponenti, importanti e complessi questo tipo di interventi, di questo ne abbiamo condiviso le preoccupazioni più volte di recente con il governatore, con il presidente Gianni e con il sindaco metropolitano Nardella, quindi è chiaro che non si tratta di mettere le mani avanti, ma si tratta anche di fare ragionamenti realistici e quindi il tema dei tempi io spero non si proponga, ma ho l'impressione che possa tornare uno degli elementi di attualità. Senta, rimango un attimo con lei perché devo chiedere una cosa per forza, che riguarda il caso, abbiamo parlato anche giovedì scorso, di quell'azienda che ha sede a Campi Bisenzi, dove alcuni operai sono stati raggiunti da un messaggio Whatsapp con cui sono stati licenziati di fatto perché chiedevano turni di lavoro più consoni, più normali, soprattutto nel giorno di Pasquetta. Due cose su questo, proprio rapidissimo, intanto perché proprio oggi è arrivata un'accusa al Comune da parte del sindacato Cobas, che dice che il Comune non ha ancora convocato il tavolo che si attende dal 26 aprile, leggo, i Cobas dicono attendiamo che il Comune di Campi Bisenzi è una risposta alle richieste di confocazione dell'azienda a un tavolo con il sindacato e i lavoratori, ormai sei giorni che formalmente il tavolo viene assicurato, ma non è stato ancora convocato. L'altra cosa invece è la buona notizia di un imprenditore dell'Aretino che insomma si è fatto avanti per assumere queste persone. Dicevamo anche prima nella trasmissione, un'ottima notizia che però non dovrebbe essere come dire soltanto il buon principio, il buon proposito di un imprenditore, ma dovrebbe diventare di sistema per tutelare le persone che vogliono denunciare come è successo a questi operai. Sì, allora è chiaro che su questo fronte l'impegno del Comune in prima persona non fa un passo indietro, ma anzi ne fa due avanti, ogni volta si trova di fronte a una situazione di questo genere. Anche in questo caso, come riconosciuto dagli stessi Cobas, che poi naturalmente sono libri di dichiarare le loro posizioni naturalmente, però come riconosciuto fin dall'inizio anche da loro, noi ci siamo mossi immediatamente, appena abbiamo saputo di questa vicenda, ci siamo fiondati al Presidio, abbiamo dichiarato l'impegno che si è tradotto subito in un'attivazione del sottoscritto anche presso la Regione, l'assessora Nardini, un interessamento del Ministero, il Ministero ha fatto intervenire immediatamente l'Ispettorato del Lavoro e ha portato alla sospensione dell'attività dell'azienda e credo che in questo tipo di provvedimento ci sia molto anche dell'attivazione delle istituzioni, non solo naturalmente. Perché il tavolo non è stato convocato? No, ma il tavolo, allora il Cobas ha chiesto un incontro in comune tra proprietà e lavoratori e sindacato che si occupa della vicenda, che è il Cobas, noi abbiamo risposto e l'avremmo fatto, è chiaro che convocare questo tipo di imprese non è facilissimo, quindi noi cerchiamo di convocarlo, ma a quel tavolo ci possa essere l'istituzione, i lavoratori, il sindacato, ma anche l'impresa, perché se dobbiamo fare un tavolo che è in monco perché manca l'impresa, ci ridiciamo, quello ci diciamo tutti i giorni e ci sentiamo con Luca Toscano e con i Cobas, quindi la facciamo anche in quel modo, ma io stiamo lavorando con i miei collaboratori perché a quel tavolo ci sia anche l'impresa. Che ha il titolare lontano, è in Cina, giusto? Eh sì, esatto, quindi non è facilissima come vicenda. Poi questo secondo me apre uno spaccato che ci deve porre una riflessione, e cioè di quanto è diffuso una pratica di questo genere, di quanto questo rappresenta un pezzo forse anche di un sistema economico che noi abbiamo nei nostri territori, perché questa non è la prima e credo purtroppo non sarà l'ultima vicenda che ci ritroviamo nell'area, diciamo, che è stata a Firenze e Prato, e quindi io penso che su questo ci debba essere una progettualità e la possibilità di dotarsi di strumenti più netti contro lo sfruttamento sui luoghi di lavoro. Io ho capito che la Regione si vuole attivare in maniera particolare in questa direzione nelle prossime settimane. La buona notizia è quello che è nato dal fatto che c'è stato anche un dare un'evidenza a questo fatto, anche da parte dell'amministrazione, dell'istituzione, e quindi si è attivata immediatamente una sorta di solidarietà nei confronti di questi lavoratori. Quindi c'è stato in primis un'impresa di San Sepolcro, ho incontrato stamani l'imprenditore, ho preso un caffè insieme perché era da queste parti, che si è mostrato disponibile, perché altri lavoratori di origine pakistana, presso la sua azienda, che lavora più o meno nello stesso settore, ad assumerli. E quindi se ci sarà la possibilità, come dire, cercheremo di far incontrare queste situazioni. Così come pochi giorni dopo un'altra impresa di Campi Bisenzio mi ha mostrato la stessa disponibilità. Però va bene, va benissimo, il buon cuore, i gesti sono importantissimi e vanno sottolineati, però rispetto a fatti di questo genere si deve proseguire un percorso che sia non dettato dalla improvvisazione o dalla disponibilità immediata, ma che ci doti degli strumenti per poter prevenire, intervenire e accompagnare i lavoratori che denunciano, verso altre situazioni di collocazione, verso problemi che possono avere di residenza e quindi l'abitazione. Tutta una serie di strumenti che dovranno essere attivati e che credo appunto la regione sicuramente se ne farà a carico. Sì, che poi è anche uno strumento utile a far sì che si continui a denunciare, perché se non arrivano le denunce, come dire, i controlli si possono fare, ma devono essere gli stessi lavoratori a denunciare. Allora, siamo in chiusura, però voglio solo chiedere una cosa a Torselli rapidissimo, proprio in telegrafico, perché lo dovevo chiedere prima, prima diceva, non abbiamo parlato delle amministrative, ma il centro-destra andrà unito, insomma, più o meno ovunque in Toscana. Mi fa un pronostico, almeno su Pistoia, Luca e Carrara? Su Pistoia dove sono coinvolto politicamente, ma prima di tutto umanamente, perché Alessandro è un amico da vent'anni e quindi non lo farò mai un pronostico su Pistoia. Sulle altre ti dico, vedo molto bene Lucca, nonostante tutte le problematiche pre-scelta del candidato sindaco. La vedo molto bene, su Pistoia non dico nulla per scaravanzia, perché voglio troppo bene Alessandro. Va bene, allora, tanto torneremo sicuramente a parlarne, sia con i diretti interessati, visto che si entra in una fase elettorale molto importante, che anche su quelle che saranno le diramazioni che porteranno al 2023, alla prossima stagione politica, magari anche con Francesco Torsella e Emiliano Fossi, che ringrazio, grazie per essere stati con noi entrambi, grazie a tutti per averci seguito da casa con Telegram e terminiamo qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Grazie a voi, buona serata.